Ristop, velocemente buono. Per venerdì prima. L'autocisterna si è rovesciata, le sostanze tossiche si stanno spargendo dappertutto. La città di Beverly Hills è dichiarata in quarantena. Si ordina di evacuare le vostre case immediatamente. Una catastrofe non accidentale. Tutta Beverly Hills sta per essere saccheggiata. Quelli non sanno che gioco anch'io. Ma tu sei solo. Noi siamo in due. Un piano perfetto, ma con un piccolo imprevisto. Lui. Prima visione TV, rapina del secolo a Beverly Hills. Venerdì alle 20 e 30, su Italia 1. I believe in our love, our friendship, our dreams. I believe in things that really last. The refreshing world of Brooklyn. Freedom long and true. Yeah, I believe in you. I believe in our love, our feelings we share. Adventures and things that really last. The refreshing world of Brooklyn. For everlasting care. Brooklyn gusto lungo. Original and sugar free. Un lungo viaggio nel gusto. Io amo le sensazioni forti. Ma per me la protezione è importante. Così ho scelto il nuovo Aftershave Mennen Wintergreen. Tanta freschezza, con poco alcol. Protegge, calma l'irritazione. Ogni giorno è l'ideale per la mia pelle sensibile. Nuovo Aftershave Mennen Wintergreen. Efficacia d'avanguardia per noi uomini. Partenza freddo? Arrivi in volata? Fermatevi su Selenia Performer. Totalmente sintetico. Solo Selenia guida come voi. L'uomo l'ha scoperto. È Denim Top Formula. Doccia gel vitalizzante. A uomini duri. Maniere dolci. Da Denim. Per l'uomo che non deve chiedere mai. Rivoluzione tecnologica. Ecco il pneumatico Michelin che rotola meglio. Tutta la tecnologia Michelin. Aderenza. Durata. E in più, un altro vantaggio. Risparmiare in media il 5% di carburante. Nuovo Michelin Energy. Meno energia per avanzare. Dove sono tutti? Ehi, dove siete tutti? Qui e ora, Martini Bianco. 1936. Spazioso, versatile, sicuro. Sulla linea New York e Chicago entra in servizio il DC-3. L'aereo che rivoluziona il trasporto aereo. Oggi? Spaziosa. Versatile. Sicura. Sulla linea casa, scuola, casa. Entra in servizio la Twingo. L'auto che ha già rivoluzionato l'auto. Twingo, l'unica piccola monovolumena. Où de rechasse? Perché mi piace? Non posso dirlo. Quando lo mangio decollo. Magnum è magnum. Se fossi un uomo gli urlerei. Magnum, ti adoro. Non lasciami mangiare, va. Magnum è un peccato di gola. È un peccato che si può perdonare. Hai un crack di cioccolata e dopo di vaniglia. Il primo magnum non si scorda mai. Ci sono cose che non si dividono. Tu che scendi bella come non mai Sono anni che sogniamo sta storia, lo sai Sento il cuore che mi ribalza in bocca E tu Con un body a palco Tornano le bellezze più sensuali Le più affascinanti pina Le top model da sogno Torna l'appuntamento con il fascino L'eveganza La bellezza da copertino Ritorna Models and Genesis Ogni giovedì alle 23.30 Su Italia 1 Su Italia 1 Grazie a tutti